La rivalità La rivalità contano molto di meno Dallo stadio San Paolo di Napoli Napoli-Palermo Sfida Angioina Buonasera da Fabio Caressa E perché Bergamo Buonasera da Fabio Caressa 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 Il pallone arriva alla Vezzi che lo tocca dentro per Amsica! 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 Tutti mi dicono per capelli, però adesso ho dimostrato che posso fare gol anche con questi capelli. Sicuramente sì, questi tre punti ci servono tanto. Siamo adesso lontani da retrocessione. Palermo ha fatto grandissima partita, ci siamo messi bene, hanno giocato per ripartenza. Però alla fine, come ho detto, non conta come abbiamo giocato, però abbiamo fatto tre punti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.